E poi fai un atto rivoluzionario, pianta un albero in un luogo pubblico, magari un luogo che è stato incendiato, come questo qui, anche un albero diverso, piantalo e vedi cosa succede, senza aspettarti nessun riconoscimento, solo che quando passerai, tu e lui saprete chi ha messo quell'albero. Fallo velocemente, ma con tutto il cuore e ogni tanto vieni a vedere come sta, salutalo, dagli un pensierino e sicuramente ti ripagherà. A caccia di eucalipto, ho già preso una decina, con un panetto di terra, una giornata umida, e quindi si tirano su facilmente con questa palettina e via. Ecco qua, per esempio, vada bellina, queste sono due addirittura. Si cerca di prendere bene la zolla di terra, con almeno quattro palettate, così intorno, là. Eh, qui, cerchiamo di prendere bene almeno una. Questa si invasa, siamo ad autunno, si mette in vasetto, la primavera è già pronta per il... Non ho presi giusto due, torri, ne? Vaiiii!